Chiavari sa quanto è importante il suo mare, ma sa anche che le sue colline non sono una risorsa meno preziosa. Per questo il Comune ha avuto una particolare cura per la cerimonia di consegna dei premi ai migliori oliveti, primo classificato Massimo Solari, e dei buoni in spesa per l'acquisto di materiale agricolo. È un premio importante perché grazie al Comune di Chiavari che stanzia questi fondi qua, ci permette di migliorare sempre di più il territorio. Noi siamo sentinelle del territorio, siamo quelli che siamo in prima linea nelle momenti di emergenze e facciamo prevenzione. Prevenzione vuol dire meno rischio idrogeologico, ricostruiamo i moretti. Sostenere il comparto è anche aiutarlo a resistere ad eventi meteocritici come la siccità prolungata. Si è capito, sta subito che avendo avuto un maggio siccitoso c'è il rischio di una cascola precoce delle olive. Dall'inizio abbiamo intrapreso tecniche moderne di coltivazione con interventi di emergenza e di concimazione per eliminare i problemi della siccità. Ad oggi si preannuncia una nata di scarica ma la qualità è eccellente ad oggi. Nelle intenzioni dell'amministrazione comunale il premio è un riconoscimento all'impegno di chi custodisce saperi e tradizioni sulla scia del percorso avviato con l'adesione all'Associazione Nazionale Città dell'Olio. Ma cura degli oliveti è anche cura della collina, ossia presidio e valorizzazione dei sentieri. Nel corso della premiazione è stato presentato il secondo video di promozione della rete, le Creuse degli Olivi di Rialto, un percorso di circa 40 minuti che collega il centro storico alla collina. I turisti stranieri soprattutto amano fare le passeggiate ed è bello far capire ai turisti e a tutti quelli che lavorano e vivono a Chiavari di poter capire cosa c'è dietro e la fatica che si può fare per mantenere un oliveto in essere. Da qui i percorsi scendono verso il quartiere di Ribasso, sempre circondati da muretti a secco e olivi che ne caratterizzano il paesaggio.